E ora vi invito ad aprire le vostre Bibbie e a seguire la lettura del testo che si trova in Efesini, capitolo 2, i versetti da 17 a 22. Efesini, capitolo 2, i versetti da 17 a 22. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un Tempio Santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. E ora cedo la parola al nostro pastore Petru che, sotto l'influsso dello Spirito, commenterà questo testo. Carissimi in Cristo, buon sabato e che il Signore ci possa benedire e che possiamo sentire in questo momento veramente la sua presenza. Quando di solito tocca a qualcuno di prepararsi per tenere il sermone, ci sono diversi modi nel preparare. C'è chi si mette in preghiera e chiede al Signore di essere illuminato per poter portare un messaggio di speranza, di pace, in base ai bisogni della comunità a cui si parla. Altri presentano dei messaggi in seguito a delle letture. Si legge la Bibbia, si legge qualche libro e si illumina in quel momento qualche idea e inizia a scrivere per costruire, per portare un messaggio alla comunità. Ci sono altri che vogliono fare uso della loro capacità, della loro intelligenza e allora cercano di trovare tutti quei argomenti più difficili oppure per amore della propria esaltazione si cerca di portare delle novità per sconvolgere tutti e tante volte questo modo di presentare porta a delle idee molto estranee alla Bibbia. Oppure si continua a leggere la parola di Dio e incontri un messaggio che prima di tutto fa bene a te stesso e lo vorresti condividere con la propria comunità. Nel presentare questo messaggio che non è mio, è tutto ciò che abbiamo trovato nella parola di Dio, ho chiesto al Signore in preghiera quale potrebbe essere per noi questa mattina il messaggio che il Signore ha da parte sua, non da parte di Petru. E ho pregato e dopo aver chiesto al Signore in preghiera ho aperto la Bibbia e ho letto il primo testo. Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi. E in quel momento tra me e me e tra me e Dio ho detto Signore ho pregato per aiutarmi a indicarmi un'idea, a indicarmi un messaggio, un testo biblico e il testo che trovo la prima volta aprendo la Bibbia è proprio questo modo di Gesù inaspettato che sconvolge e che ha sconvolto tutti coloro che sono venuti al Tempio. Un Gesù rivoluzionario che rovescia i tavoli dei mercanti che erano al Tempio e per l'aggiunta Gesù continua nel versetto 13, sto leggendo il testo di Matteo capitolo 21 versetto 12 in avanti. E per l'aggiunta Gesù disse loro, è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Mi sono un pochino soffermato su questo modo di fare di Gesù al Tempio quando tutti i credenti che andavano al Tempio andavano per incontrare Cristo e andavano anche per incontrare gli altri credenti e incontrano un Gesù rivoluzionario che rovescia, che vuole fare ordine nella sua casa e per l'aggiunta cita un testo di Isaia 56 dove viene detto da parte di Dio la mia casa, dice Dio, sarà una casa di preghiera per tutti i popoli e poi riflettendo più da vicino sull'efficacia di questo testo per me e per la mia comunità in effetti mi sono reso conto e forse ci rendiamo conto che di sabato nelle nostre comunità sicuramente non c'è nessuno all'ingresso del Tempio all'ingresso della comunità che sta vendendo delle cose per trafficare per cambiare monete e per portare ciò che si faceva nel primo secolo al Tempio, a Gerusalemme sicuramente nella nostra comunità nessuno entrando in chiesa vi vende dei libri, vi vende delle cose personali o anche delle cose che hanno a che fare con il Tempio, con l'adorazione sabatica però stando in riflessione mi sono reso conto che spesso di sabato noi non incontriamo venditori di colombe, venditori di animali per sacrificio come fu nel primo secolo a Gerusalemme ma mi sono reso conto anche girando diverse chiese che spesso nelle mie visite e nella mia esperienza di vita ho spesso incontrato nelle nostre comunità dei mercanti mercanti di chiacchiere ecco, mi è venuta subito questa riflessione di portarla a voi, a tutti coloro che ci tengono al rispetto per la casa del Signore quando noi siamo invitati a venire in chiesa ad incontrare il Signore nella sua parola a incontrare il Signore attraverso lo Spirito Santo che noi invochiamo e imploriamo tante volte incontro fratelli e non che sono mercanti di chiacchiere di parlare, di parlare di altri fratelli di parlare nel giorno sacro di sabato delle cose della settimana e di occupare ancora una volta la propria mente con delle cose che hanno a che fare con il mondo e poi le poche ore che viviamo alla presenza di Dio sabato mattina volano come niente e torniamo a casa e non so se vi fate questo esame di coscienza se veramente questo sabato mattina tornate a casa carichi della parola di Dio nella mia esperienza ma anche da giovane in Romania sentivo parlare dei pastori dando tutto loro stessi e vedendo anche come loro si esprimono come esprimono concetti veramente straordinari dalla parola di Dio io ero attratto nella mia mente alle cose della settimana e continuavo a chiacchierare con il mio amico e con i miei amici in chiesa delle cose nostre e andando avanti mi sono sentito ad un certo momento vuoto freddo quasi indifferente a ciò che mi proponeva la parola di Dio altre volte ho cercato tra me e me di vincere questa battaglia interiore e di chiedere al Signore Signore la prima cosa quando entro nella tua chiesa nel tuo luogo di adorazione aprimi il mio cuore i miei occhi alla tua parola aiutami a stare attento a ciò che vorrai dirmi e spesso succedeva che chi presentava il messaggio non sempre era il pastore o chi era più famoso di turno ma spesso anche una parola semplice detta da un semplice membro di chiesa mi rimaneva là e me la portavo per tutta la settimana e avevo veramente una carica spirituale poi spesso incontriamo nelle nostre comunità anche i cosiddetti venditori ambulanti di chiacchiere che vengono da una comunità all'altra per seminare zizzania o per seminare dei dubbi o per parlare male dei pastori dei membri di chiese e possiamo aggiungere tutto ciò che vogliamo a questa lista il Signore desidera veramente che noi siamo questi venditori di chiacchiere il Signore desidera veramente che la nostra adorazione sia fatta di queste chiacchiere tra di noi di occupare questo tempo sacro che è irripetibile nella nostra storia nella nostra vita con delle cose che non giovano a niente per la nostra salvezza per la nostra edificazione spirituale e poi ho riletto di nuovo questo testo Gesù entrò nel Tempio ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi il testo di Matteo e ho cercato di vedere che cosa ne parlano altri evangelisti che riportano lo stesso evento e ho scoperto che l'evangelista Marco nel capitolo 11 prima di descrivere ciò che Gesù Cristo ha fatto un versetto un qualche versetto prima anzi la sera prima perché quando Gesù si trova al Tempio e qui siamo nell'ultima settimana prima della crocifissione e questo accade nel lunedì prima di quel venerdì della Pasqua Gesù Cristo ancora prima la sera viene detto nel Vangelo di Marco secondo Marco al capitolo 11 versetto 11 dice Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver osservato ogni cosa intorno essendo già l'ora tarda uscì per andare a Betania con i dodici il giorno seguente quando fu usciti da Betania ebbi fame eccetera e poi è la giornata in cui Gesù ritorna di nuovo a Gerusalemme e trova quel mercato nel cortile e al Tempio giorno prima Gesù entra a Gerusalemme entra nel Tempio e come viene detto qui dopo aver osservato ogni cosa intorno essendo già l'ora tarda uscì per andare a Betania sicuramente Gesù è qui e osserva ogni cosa prima che noi esprimiamo i nostri rancori prima che noi portiamo le nostre chiacchiere in chiesa lui è qui ancora prima che noi arriviamo qui ad aspettarci ad incontrarci e prima che io tiro fuori il chiacchiericcio lui conosce il mio cuore e osserva ogni cosa ed è interessante che in questo atteggiamento da parte di Cristo in un primo momento è colui che osserva che sta in silenzio e guarda e ahimè quante volte Gesù mi ha osservato in silenzio mentre la mia mente nel giorno di sabato era presa da tutt'altro ero preso in discussioni inutili che non faceva onore al giorno sacro che il Signore l'ha messo da parte oppure quante volte non assistiamo nelle nostre assemblee o nei nostri incontri di sabato a delle critiche sempre negative mai costruttive critiche che sono comunque atte a distruggere a spaccare la Chiesa con la presunzione di essere un riformatore di essere qualcuno che l'ha inviato Dio mentre le Chiese si sfasciano e rimangono sicuramente male noi nella Bibbia troviamo un unico accusatore che la parola di Dio chiama l'accusatore e l'avversario di Dio che la Bibbia lo identifica come l'unico accusatore che è Satana e tante volte i credenti avventisti e non fanno il gioco di Satana tante volte lavorano per lui pur venendo in Chiesa portando questa atmosfera che sicuramente a Cristo ha dato fastidio lo ha indignato e continua a farlo anche oggi e mi sono reso conto che Gesù riporta come abbiamo già letto in Matteo 21 riporta che questa casa Matteo 21 versetto 13 questa casa è una casa che sarà chiamata una casa di preghiera per tutte le genti Gesù conferma il desiderio di Dio quando Dio ancora secoli prima attraverso il profeta Isaia riporta questo messaggio da parte di Dio che la casa di Dio il tempio di Dio deve essere sarà chiamata una casa di preghiera non solo per il popolo di Israele che Dio se l'ha preso a cuore per far di Lui la luce di tutte le nazioni del mondo Dio desidera desiderato nel suo progetto che quel tempio ebraico poi tutte le sinagoge e tutti i posti dove venivano tutti i luoghi dove veniva in qualche modo invocata la presenza di Dio e presentata la sua parola sarà chiamata una casa di preghiera per tutte le genti per tutti i popoli Gesù osserva la sera prima sta in silenzio un giorno prima sta in silenzio e forse anche oggi Lui continua a stare in silenzio ma questo silenzio di Dio non sarà all'infinito la parola di Dio parla anche di un intervento di Dio di un giorno chiamato giorno di giudizio e in quel momento sarà veramente troppo tardi per chi ancora oggi occupa la propria mente e la propria esistenza con il chiacchiericcio nella presenza di Dio e portando delle chiacchiere e occupare la propria mente per disonorare questo luogo sacro dove viene invocata la presenza di Dio è interessante per quanto riguarda anche il giorno di sabato perché ci incontriamo nel giorno di sabato che cosa noi troviamo nella Bibbia e nel libro del Levitico giusto per indicare alcuni riferimenti biblici Levitico capitolo 23 riguardo al sabato riguardo al luogo di inchinare di adorazione Dio ha dato questi comandamenti questi precetti chiari attraverso il suo profeta Mosè Levitico 23 versetto 3 si lavorerà sei giorni ma il settimo giorno e sabato giorno di completo riposo e di santa convocazione non farete in esso nessun lavoro e un riposo consacrato al Signore in tutti i luoghi dove abiterete ho sentito qualche credente dicendomi che il discorso del sabato riguarda gli ebrei perché Dio ha dato il sabato agli ebrei e quel credente non si ricorda che la creazione inizia con la genesi quando Dio ha offerto questo dono del sabato a tutta l'umanità quando c'era l'uomo Adamo ed Eva quando non c'erano né ebrei né italiani e nemmeno i rumeni Dio che ha dato questo dono a tutta l'umanità e poi ricorda l'intento con cui Dio ha offerto questo giorno sacro di riposo all'umanità e lo ricorda in questi termini lavorerai sei giorni ma poi il settimo è un giorno speciale non dedicato alle tue chiacchiere o alle mie non dedicato ai nostri affari il Signore dice è un giorno di completo riposo e di santa convocazione se non fosse aggiunta questa espressione di santa convocazione sarebbero in qualche modo giustificati tutti i fratelli che di sabato rimangono a casa dormono riposano fanno le loro cose si fanno le cose di casa ma qui viene indicato come il progetto di Dio che desidera convocare il suo popolo desidera convocare tutti coloro che lo adorano e quale benedizione nell'assemblea dei santi quando viene invocata la presenza di Dio e poi viene detto è un riposo consacrato al Signore è triste vedere la storia come nella storia del popolo di Dio queste cose questi insegnamenti si sono dimenticati nel tempo per arrivare poi il profeta Isaia ispirato da Dio a ribadire questo concetto e a ribadire qual è il progetto di Dio per me per poter trare veramente beneficio da questo giorno di riposo è un testo famoso che vorrei rileggere si trova in Isaia capitolo 58 dove si parla del digiuno del significato vero e proprio del digiuno dove si parla di che tipo di sacrificio Dio desidera si aspetta da me come credente e poi per poter veramente far sì che questo sabato questo giorno di riposo possa diventare per me un giorno di delizia un giorno di appagamento un giorno di benedizione devo stare a ciò che Dio ha lasciato nella sua parola versetti 13 e la prima parte del 14 Dio dice se tu trattieni il piede dal violare il sabato facendo i tuoi affari nel mio santo giorno se chiami il sabato una delizia è venerabile ciò che è sacro al Signore se onori questo giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause allora troverai la tua delizia nel Signore osservate quante volte si ripete di non fare i tuoi affari nel giorno del Signore di non portare le tue cause della settimana nel giorno del Signore è una cosa straordinaria trovandoci tutti insieme con grande rispetto e onore davanti al creatore del mondo davanti al nostro personale salvatore dove tutta la nostra mente tutto noi stessi deve essere attratta dalla bellezza dallo splendore della sua presenza Isaia ci invita a trovare la nostra la propria delizia nel Signore cercando di mettere in pratica questi semplici insegnamenti di fare in modo che questo tempio di fare in modo che questa casa chiamata casa di preghiera non diventi un mercato un mercato anche di moneta un mercato anche di scambio di opinioni e ripeto un mercato di chiacchiere ed è per la giunta per arrivare anche al Nuovo Testamento c'è un altro insegnamento c'è un altro incoraggiamento straordinario nella lettera agli ebrei dove ci viene dato questo suggerimento ebrei 10 versetto 25 anzi 24 e 25 viene detto così facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete avvicinarsi il giorno e quando questa lettera è stata scritta siamo ancora all'inizio dell'era cristiana e già allora si intravedeva questo avvicinarsi del giorno di Dio e noi che guardiamo nella storia indietro che anche da un punto di vista profetico abbiamo visto quasi tutti i segni che si sono adempiuti alla lettera noi che siamo veramente consapevoli che stiamo vivendo in un periodo della fine quanto più dovremo dare attenzione e peso a questa parola da parte di Dio non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare quando so che nella casa di Dio Dio è presente nella sua assemblea come come posso stare a casa o posso fare una passeggiata per fare i fatti miei quando posso beneficiare della presenza di Dio della sua parola quando posso beneficiare anche dell'affetto fraterno di un abbraccio di una stretta di mano quando posso beneficiare di un affetto fraterno che lo posso incontrare nella famiglia di Dio e abbiamo un messaggio straordinario che dovrebbe ispirarci dovrebbe motivarci ad avere questo atteggiamento sacro di rispetto per il locale di culto e per questo giorno sacro il testo che è stato letto all'inizio in Efesini dopo aver pregato all'inizio e aver incontrato quel testo dove Gesù inizia a fare ordine nel tempio rovescia tutti i tavoli dei mercanti eccetera e ho riflettuto sull'importanza del luogo dove noi ci troviamo ho cercato di trovare che cosa dice la parola di Dio riguardo a questo edificio riguardo alla sua chiesa ed ho scoperto ho incontrato questo straordinario messaggio che vorrei rileggerlo quello che è stato letto all'inizio Efesini siamo in Efesini capitolo 2 e per arrivare al testo che vorrei evidenziare vorrei rileggere anche il contesto inizia dal versetto 17 e qui ci viene indicato ciò che Gesù ha fatto in nostro favore ciò che Dio si è impegnato a fare per noi quindi guardate guardiamo in un primo momento l'intervento di Dio il primo passo che Dio ha fatto verso di noi per capire poi che cosa si aspetta Dio da noi dal versetto 17 Efesini capitolo 2 con la sua venuta di Cristo ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini quindi un primo messaggio di serenità di rassicurazione di pace versetto 18 perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al padre in un medesimo spirito e già questo è veramente straordinario non solo che Cristo ci porta la pace e con la sua venuta è venuto per darci questa pace noi con lui e tra di noi ma grazie alla sua venuta versetto 18 per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al padre è straordinario questo modo concreto diretto della parola di Dio dove non ci sono intermediari per intercedere in nostro favore al trono di grazia di Dio l'unico intercessore che la Bibbia lo presenta è Cristo e lo Spirito Santo non si parla di vie di allungatoie come dicono le mie figlie papà quando andiamo lontano scegli la scorciatoia e le dico sì l'autostrada o le strade che conosco ho scelto la scorciatoia poi quando vedono che passa un'ora passa due ore e sono sempre lì a guidare papà ma questa volta hai scelto di nuovo la tua allungatoia non la scorciatoia tante volte noi come credenti ci rendiamo il nostro cammino di fede sempre più difficoltoso sempre più pieno di ostacoli come quando tu hai davanti a te il re dell'universo e puoi portare la tua causa direttamente a lui puoi parlare direttamente con il numero uno di tutto l'universo e siccome altri ti hanno detto no ma prima devi andare l'ufficio quello poi devi andare di là poi devi aspettare che l'altro ti passa la richiesta di là e se sicuramente arriverà l'umanità ha scelto tanti intermediari per arrivare a parlare direttamente al padre quando lui è qui e non vede l'ora di sentire direttamente il tuo bisogno di lui quando vuole sentire direttamente la tua fatica il tuo bisogno direttamente e qui è la parola di Dio che ci dice in lui in Cristo gli uni e gli altri abbiamo accesso al padre per mezzo dello spirito santo quindi guardiamo l'enorme favore che Dio ci ha fatto in Cristo e il testo continuo versetto 19 così dunque dopo averci aiutati a riflettere a capire di questo grande favore di questo grande passo che Dio ha fatto verso di noi ci dice versetto 19 così dunque non siete più né stranieri e né ospiti ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio ci sentiamo membri della famiglia di Dio ci sentiamo concittadini dei santi e in un altro luogo della Bibbia in filippesi ci viene detto che noi siamo cittadini del regno dei cedi e di fronte a questo favore di fronte a questo immenso onore che Dio ci fa segue il versetto 20 siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore Efesini capitolo 2 che grande verità biblica e grazie a Dio perché non ha permesso che questo nostro fondamento questo fondamento della Chiesa fosse fondato su qualche creatura su qualche apostolo su qualche santo e ancora di più su qualche angelo eccelso grazie a Dio perché l'unico fondamento l'unica pietra angolare siete stati edificati sul fondamento degli apostoli dei profeti essendo Cristo stesso la stessa stessa la pietra angolare sulla quale l'edificio intero ben collegato si va innalzando per essere un tempio santo per il Signore non potremo non potremo mai smettere di ringraziare Dio per averci fatto questo onore di costruire la propria Chiesa di costruire la propria fede la propria esistenza su Lui e non su qualche altra creatura e poi il versetto 22 che è in conclusione di questo passo biblico in conclusione anche di questo breve messaggio viene detto in Lui voi pure sentite la bellezza in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio e sentite lo scopo supremo per cui Dio costruisce questo edificio fatto da noi in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello spirito non soltanto Dio ci fa questo favore e questo onore di considerarci parte della sua famiglia celeste di aver costruito la nostra fede e questa comunità di credenti sull'unica pietra angolare che è Cristo che si vada ad inalzare e noi siamo invitati ad entrare a far parte di questo edificio di questa dimora che ha come scopo ad asservire come dimora a Dio per mezzo dello spirito santo ma Dio non ha altre dimore nel suo universo non ha quel bel tempio di cui si parla nel libro dell'apocalisse dove sono miriadi di angeli che lo acclamano che lo lodano giorni e notte non ha altri mondi per costruirsi un tempio una dimora Dio desidera dimorare in mezzo a noi ed è questo l'unico scopo per cui Dio ha dimostrato ha fatto vedere a Mosè nella sua visione ha dato delle indicazioni esodo capitolo 25 mi farete un santuario e Dio abiterò in mezzo a voi lo scopo per cui Dio è sceso sulla terra col desiderio di abitare in mezzo a noi e nel momento in cui noi siamo consapevoli della sua presenza nel momento in cui noi siamo consapevoli che Cristo è in mezzo a noi attraverso il suo spirito santo attraverso anche gli angeli che sono qui presenti e che ci ascoltano le mie chiacchiere i miei problemi di fuori o le mie cose che hanno a che fare con lavoro con i film con le macchine con sai che cosa ha detto quello io ti dico che cosa ha detto l'altro fratello quale atteggiamento possiamo avere noi come figli di Dio che siamo parte di una famiglia di Dio quale atteggiamento potremo avere quando siamo consapevoli che siamo alla presenza di Dio quando siamo consapevoli del tempo sacro e santo che Dio alla creazione ha messo da parte e che lo ha chiamato in originale riposo Shabbat il mio desiderio dopo aver letto quel testo di Gesù che rovescia i tavoli ai mercanti che sono al tempio il mio desiderio è che possiamo veramente rivedere le nostre abitudini quando noi entriamo in chiesa di rivedere anche i nostri telefonini quando entriamo in chiesa se proprio abbiamo bisogno e sappiamo che qualcuno sta a casa malato in pericolo o ha bisogno di chiamarci di metterlo su vibra in modo da poter sentire vibrare e uscire fuori a non disturbare il clima solenne quando Dio è presente nella sua santa adunanza nella sua santa convocazione che il Signore ci aiuti a fare un piccolo passo in avanti per quanto riguarda la nostra il nostro percorso di santificazione che il Signore ci aiuti a vedere con gli occhi di Dio le benedizioni e la realtà di questo giorno sacro e santo che Lui l'ha messo da parte non per Lui per noi insieme a Lui e che il Signore ci aiuti veramente a beneficiare di questo onore che Dio ci dà di incontrarsi con noi ogni sabato qui in questa casa di preghiera di quell'onore che Dio ci dà di poter rivolgerci a Lui in ogni istante della nostra vita in ogni giorno della settimana Dio è veramente straordinario che il Signore ci aiuti ad entrare in questa dimensione spirituale della adorazione della nostra lode a Lui nel nome di Gesù Amen Gesù un giorno tornerà da noi alle porte è il Signore più vicino a noi e da lontano ci vedrai con le bandiere noi verremo per sempre lo dissentirai quando tornerai a la musica a la musica dide and dide a la musician an